Commenta il fatto del giorno Enzo D'Antona, direttore di Il Piccolo. Gian Giacomo Feltrinelli, editore intellettuale, presunto terrorista, una figura molto importante per capire gli anni della strategia dell'attenzione e gli anni di piombo della storia italiana. Gian Giacomo Feltrinelli, ex partigiano editore, protagonista di uno dei periodi più indecifrabili della storia della Repubblica italiana e degli anni di piombo. Feltrinelli, rappresentante di una famiglia molto ricca, con interessi nel mondo del credito, della finanza e dell'industria, aderì alla resistenza e poi negli anni seguenti, dopo essere stato nel Partito Comunista, iniziò a spostarsi sempre di più a sinistra, fino a costituire il gruppo di azione partigiana che dialogava con l'EBR e quindi era nell'area del terrorismo. La sua morte, sotto il famoso traliccio di Sagrato, una cosa che esplose in Italia all'improvviso, lasciò di stucco gli italiani. La sua morte in qualche modo segnò l'inizio degli anni peggiori del periodo più difficile dell'Italia. Fu un omicidio o fu un incidente? Cioè Feltrinelli effettivamente stava per far saltare quel traliccio con dei candelotti di esplosivo, il traliccio di Sagrato, oppure venne ucciso prima? La versione ufficiale fu quella dell'incidente, cioè Feltrinelli era un terrorista che stava facendo saltare quel traliccio dall'Enel. In realtà subito dopo l'omicidio vennero sollevate molti dubbi, Camilla Cederne e Eugenio Scalfari si opposero a questa tesi, fecero una sorta di manifesto per contestare la versione ufficiale delle autorità, fra l'altro erano intervenuti sul posto carabinieri, agenti di polizia, ma anche agenti dei servizi segreti, quindi l'indagine mossa i primi passi in un contesto molto difficile e in realtà di sicuro, per dirla con Tommaso Besozi col famoso titolo dell'Europeo, di sicuro c'è soltanto che è morto, ma chi è stato? Feltrinelli è stato solo questo? No, Feltrinelli è stato un editore che ha avuto grandi meriti, ma non solo perché portò in Italia il dottor Zivago di Pasternak che vinse poi il Nobel per la letteratura qualche anno dopo, o per aver pubblicato il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa che era stato rifiutato da tutti gli altri editori, bocciato da Vittorini, rifiutato da Lei Naudi, ma perché in realtà fu il primo a portare in Italia la letteratura terzomondista, l'attenzione al terzo mondo che poi si è sviluppata nel corso degli anni, noi la dobbiamo a Feltrinelli, fra l'altro una cosa sicuramente da ricordare che Feltrinelli fu quello che acquistò quella famosa fotografia di corda con Cechevara che lui conobbe, che poi è diventata l'icona della sinistra, frequentò ampiamente il terzo mondo, conobbe Fidel Castro, però penso che il suo merito maggiore sia stato questo, dell'apertura al terzo mondo, ovviamente la storia giudicherà poi la sua attività terroristica.